Gli ultimi sono arrivati così, su questo piccolo peschereccio nel porto di Lampedusa e poi per due giorni sul molo hanno atteso il trasferimento verso i centri di accoglienza della Sicilia per essere messi in quarantena. I migranti arrivati in Italia dall'inizio dell'anno, secondo i dati del Ministero dell'Interno, sono 4184, un numero contenuto ma che con l'emergenza Covid ha posto comunque un problema di sicurezza. Per questo motivo noi come Caritas, nell'ambito del tavola siro nazionale, abbiamo chiesto ai ministeri competenti di indicarci dei protocolli chiari a livello nazionale, omogenei, per garantire a tutti sicurezza sanitaria. Oggi chi arriva fa la quarantena nei centri di accoglienza dove nelle settimane passate, durante dei controlli, sono stati registrati casi di contagio, ma se è riuscita ad intervenire in tempo attivando il 118 e quindi i protocolli del sistema sanitario nazionale, il rischio è che con la bella stagione il numero degli arrivi possa crescere e che la rete di accoglienza non sia in grado di garantire il necessario livello di sicurezza. Quello che manca però spesso è la capacità delle strutture, per come sono state immaginate, di accoglienza, di garantire ad esempio l'adeguato periodo di quarantena che prevede delle stanze isolate, con un bagno isolato, con dei dispositivi di protezione individuale, in numero sufficiente per queste persone.